Ciao ragazzi, benvenuti su Casting of Drums. Il video di oggi è un video che non ho mai fatto sul canale, ma è tanto che voglio fare questo video sul canale, perché è un video completamente diverso dal solito. Volevo fare un video, e questo è il video sulla prima lezione di batteria, nel senso prendo, non ho mai suonato la batteria, vado a fare la prima lezione di batteria. Che cosa succede? Ecco, voglio spiegarvi un po' qual è in generale la mia prima lezione di batteria, quello che in generale faccio fare io agli allievi per far capire soprattutto se la batteria fa per loro, se non fa per loro, se gli piace o non gli piace, in generale fargli capire un po' che cos'è la batteria e a cosa serve. Ovviamente questo è un video generico, ogni maestro ha il suo modo, ogni allievo ha il suo modo e i suoi tempi di apprendimento, quindi poi ogni prima lezione di batteria è diversa. Ma comunque ho deciso di fare una mia prima lezione di batteria in modo tale che chi non ha mai suonato la batteria possa provare e possa vedere se gli piace, vedere un po' come funziona, eccetera, eccetera. E soprattutto se magari qualcuno sta cominciando a insegnare e ha bisogno di qualche spunto, magari insegnare dall'inizio ai ragazzi o a chiunque, non è così semplice, quindi magari potrebbe essere uno spunto per far capire a dei nuovi allievi come incominciare a suonare la batteria. Ma, dato che volevo fare le cose bene, ho deciso di chiamare strumentimusicali.net, ho un pacco qua che ha... Sì, sono caduto, sono caduto, è andata proprio così, per prendere il pacco di strumentimusicali.net, che è vuoto, quindi non ho rischiato di rompere niente, tranquilli, ma ho chiesto a strumentimusicali.net di mandarmi una prima batteria, una batteria che andasse bene per chi comincia e ho deciso di prendere questa Tornado di MAPEX, l'ho presa blu, anche se ci sono di vari colori, ci sono di vari set, ovviamente vi lascio tutto qui sotto in descrizione, e ho preso questa Tornado appunto di MAPEX, che è una batteria economica, ma di MAPEX, quindi di una marca buona, e infatti vedrete all'interno del video che è una batteria che suona di brutto, soprattutto per il prezzo che ha. Quindi, prima lezione di batteria, contestualizzata bene, diciamo, con una prima batteria, e devo dire che mi piace un sacco provare queste batterie economiche perché mi fa capire quanto il mondo delle batterie sia andato avanti. Quando ho cominciato io le batterie economiche non erano il massimo della vita, bisognava andare già un po' più su di prezzo per avere qualcosa che suonasse bene, ma adesso invece mi piace provarle proprio per vedere quanto già riusciamo a tirare fuori da una batteria economica. Detto questo, basta, cominciamo questa lezione, perché oggi più che un video è proprio una lezione. Mando la sigla. Quindi, prima parte della lezione, parliamo di groove. I groove sono i ritmi, sono quelli, diciamo, detta male, di quando i batteristi incrociano le mani in questo modo. Ovviamente, in questa lezione non è ancora importante come tenere le bacchette, basta che le prendiamo in mano così l'impugnatura non è così importante ancora, tranquilli, impugnatele come volete, ma la cosa importante è capire a che cosa serve un groove. Il groove è, diciamo, l'ossatura principale di una canzone ed è proprio la cosa principale che possa fare un batterista perché serve a tenere il tempo a tutta la band. Quando fate po, pa, po, pa, queste cose qua, è proprio ta, 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 ta. Quindi, è come se ci fosse una palla che rotola e pian pianino che rotola fa rotolare tutta la band. Quindi, il groove è veramente fondamentale. Poi, è molto semplice le cose che dovete sapere e contare, la cosa che dovete sapere è contare fino a 4 per adesso. 1, 2, 3, 4 e riuscire a contarlo più volte. Quindi, molto semplice. Insieme a questo, così, comincerò a farvi vedere un po' questa MAPEX Tornado. Vi dico già subito che per quanto riguarda la cassa, che ha un suono che suona di brutto, dopo ve lo spiego, comunque ho fatto il buco davanti, alla pelle, e ho messo un cuscino dentro, un tappeto, in realtà, dentro per stoppare un pochettino. Per il resto, ascoltate il groove e ascoltate il suono di questa MAPEX Tornado. Partiamo, quindi, come vi ho detto, dal groove. Allora, bacchette, queste qua, Finest 7A, che sono quelle che mi sono state date insieme alla batteria. In questa parte useremo il charleston, il rullante e la gran cassa. Quindi, cominciamo a vedere questi tre pezzi di questo Tornado e così capiamo. Allora, partiamo contando fino a 4. La velocità, meglio se teniamo una velocità abbastanza lenta, tipo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Poi, ovviamente, possiamo andare più lenti, più veloci, se ci viene, eccetera, eccetera, ma, in generale, partirei da una velocità più o meno come questa. Allora, in pratica funziona in questo modo, col nostro charleston dobbiamo andare a suonare tutti i colpi che cantiamo, che contiamo. Quindi, 1, 2, 3, 4. Tutti con la nostra mano forte. Quindi, adesso non conto mentre suono, perché altrimenti da questo microfono che mi prende la voce si sente un casino pazzesco. Voi contate anche mentre suonate, io lo faccio solo con l'abbiale. Dopo aver fatto questo, inseriamo la cassa. La cassa andrà suonata solamente sul numero 1, quindi insieme al charleston. Il charleston suona su tutti i numeri, diciamo, su tutte le pulsazioni, si chiamano. La cassa suonerà solo sulla prima, insieme al charleston. Quindi, il numero 1 sarà questo. È un po' difficile, perché dobbiamo incominciare a coordinare due arti. Quindi, facciamo tutti e quattro. Questa è una battuta completa. Le quattro pulsazioni, i quattro numeri, insieme, formano una battuta. Se noi vogliamo farlo per due volte, cioè per due battute, faremo due volte fino a quattro. Adesso aggiungiamo il rullante con la nostra mano debole, che nel mio caso è la sinistra, che andrà a suonare sul numero 3, quindi insieme al charleston sempre, come anche la cassa. Ma, facciamo una piccola ricapitolazione. Charleston su tutti i numeri, cassa sull'1, rullante sul 3. Quindi, avremo sull'1 cassa e charleston, sul 2 charleston da solo, sul 3 rullante e charleston insieme, sul 4 charleston da solo. Facciamolo per due battute. Queste sono due battute di groove. Ovviamente questo è il groove principale, che poi si userà tantissimo. Se noi andiamo ad aumentare la velocità, diventerà... Probabilmente questo l'avrete già sentito. Poi, questa è una prima lezione di batterie, diciamo. Non si andranno poi a suonare proprio in questo modo, non contando i numeri in questo modo, ma in ottavi, cioè in un modo un pochettino più complicato. Però, secondo me, se volete cominciare facendolo in questo modo, è perfetto. Perché così è semplice, con i numeri, ogni numero ha un colpo e siamo a posto. Detto questo, comunque, devo dire che la batteria... Allora, la cassa è una bomba, secondo me. E' veramente una figata, sta cassa. Il rullante non è male, ha qualche armonico, diciamo, c'è qualche... Però, io ho voluto lasciarlo così com'è, accordarlo così com'è, ma basterebbe mettergli una mungel qua, un qualcosa che lo sto più un filo, e sarebbe perfetto, sentite. Ha già molti meno armonici in questo modo. Charleston, in realtà, non è così male. Ovviamente, i piatti, sia questo, sia questo qua, il crash ride, diciamo, che ha questa batteria, sono la prima cosa che bisognerà cambiare. Perché, rullante, cassa e i tamburi, poi vedremo dopo, non sono per niente male, devo dire che suonano bene. I piatti sono un pochettino fini, diciamo, un po' più delicati, e il suono non è il massimo. Però, ovviamente, i piatti sono molto personali, quindi ci sta che vengano dati due piatti come questi qua, normali, che si possono suonare senza chissà che suono pazzesco, e poi, pian pianino, si va a migliorarli e si va a prendere magari un set diverso. Ho fatto anche dei video di set di piatti economici e ve li lascio qui sotto in descrizione. Quindi, questo è il group principale che può essere fatto o su Charleston o sul ride, che in questo caso è crash ride e andrà suonato con la punta della bacchetta. In pratica, non cambia nulla. Semplicemente, la mano destra, nel mio caso la mano forte, dal Charleston va a spostarsi sul ride, ma l'idea di quello che suoniamo sarà identica. Quindi, ride su tutti i numeri, su tutte le pulsazioni, cassa su 1, rullante su 3. Stessa cosa. Comunque, Non è così male, questo piatto, non è così male. Questo è il groove. Quindi, come avete potuto vedere, riusciamo già, con questa batteria, a dare un groove che abbia tiro, cioè un groove che sia figo, che sia potente, che abbia un suono bello, eccetera. La cassa, come avete sentito, ve l'avevo detto, suona di brutto. Il rullante, anche, magari, come vi ho già detto, con un filino di sordinatura. Il Charleston, alla fine, è un piatto che comunque ci sta. Adesso, seconda parte di lezione, però, passiamo ai fill. I fill sono, in italiano, vengono chiamati i passaggi. Passaggi perché servono, in generale, poi sono abbellimenti anche, ma, in generale, servono per far capire alla band che stiamo passando da una parte di canzone a un'altra, che non vuol dire da una canzone all'altra, ma, all'interno della stessa canzone, di solito, abbiamo strofa, ritornello, strofa, ritornello, quindi, nel passaggio, magari, tra strofa e ritornello, subito prima del ritornello, alla fine della strofa, facciamo un passaggio con la batteria e poi ricominciamo a suonare i nostri ritmi passando, però, al ritornello. Quindi, di solito, i passaggi sono meno dei ritmi, di solito, però, facciamo sempre ritmo, 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 poi facciamo un passaggio e poi ricominciamo col ritmo nell'altra sezione di canzone. Quindi, comunque, facciamo così. Vi faccio vedere due tipologie di passaggio. Una con una battuta, una con due battute. Andiamo! Come passaggio, per quanto riguarda la prima lezione di batteria, a me piace molto sempre fare il giro della batteria. Il giro della batteria significa fare un colpo per ogni tamburo partendo dal rullante, andando poi in senso radio. Quindi, rullante, tom 1, tom 2, timpano. Avendo quattro pulsazioni, secondo me, la cosa migliore è fare un colpo proprio per ogni tamburo. In questo modo qua. Uno, due, tre, quattro. Questa è una battuta di passaggio. Vogliamo fare lo stesso passaggio per due battute? Come abbiamo visto già nei groove, basta ripeterlo un'altra volta. Questa è una possibilità di passaggio. Volendo, una cosa che si fa molto spesso, è quella di suonare due colpi per ogni tamburo. In questo caso, cosa andremo a fare? Andremo a fare in tutto otto colpi. Abbiamo scoperto che una battuta, una battuta in generale, è composta da quattro pulsazioni, che per adesso, per noi, sono quattro colpi. Quindi, quattro più quattro, due battute, faranno otto colpi. Quindi, se io vado a fare uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro, andrò a fare due colpi per ogni tamburo e in tutto due battute. Uno, due, tre, quattro. Ok, questi sono i due passaggi principali, secondo me. Se volete fare una battuta sola, un colpo per ogni tamburo. Se volete fare due battute, due colpi per ogni tamburo. Come avete potuto sentire, quindi questa batteria, raga, suona di brutto. Adesso, in questi passaggi, vi ho fatto sentire i tom e comunque hanno un'intonazione molto interessante. Il fatto che siano 12, 13 e 16 come grandezze non è per niente male perché abbiamo comunque dei suoni belli bassi. Di solito, all'inizio, la cosa che si vuole fare è il rock. Il pop, rock. Di solito rock, però, rock a rock. Quindi, avere dei suoni bassi è una figata perché riusciamo a dare potenza subito. Ovviamente, poi, adesso abbiamo le pelli date in dotazione. Quando cambierete pelli e magari prenderete delle pelli doppio strato, delle pelli che sono magari un po' più asciutte, delle pelli idrauliche perché ovviamente potete montare qualsiasi pelle, vedrete che farete proprio un level up pazzesco di suono perché la batteria suonerà ancora meglio ed è normale, è una cosa normale. Queste sono le pelli date in dotazione, con le altre pelli suonerà 6 volte tanto. Quindi, adesso, l'altra cosa che voglio fare, però, è mettere groove e fili insieme. Abbiamo due possibilità. Possiamo fare tre battute di groove più una battuta di fill oppure due battute di groove e due battute di fill. Vi farò vedere queste due possibilità utilizzando sempre lo stesso groove e utilizzando i due fill che abbiamo visto. L'importante è che per questa prima lezione l'insieme di groove e di fill faccia quattro battute. La somma di groove e fill faccia quattro battute. Tre groove più un fill quattro, due groove più due fill quattro. Andiamo. Partiamo dalla prima possibilità, cioè tre battute di ritmo, di groove e una battuta di passaggio. Groove, ormai l'abbiamo capito, l'abbiamo visto all'inizio, è questo qua. Passaggio, che questo groove ovviamente andrà fatto tre volte, quindi contare tre volte fino a quattro. Passaggio, dobbiamo fare una sola battuta, quindi un colpo per ogni tamburo che quindi saranno quattro colpi, quattro numeri come quelli che contiamo nella pulsazione, quindi andiamo, tre battute di ritmo, una di passaggio. Uno, due, tre, quattro. In questo modo qua. Adesso andiamo a vedere la seconda possibilità, cioè due battute di ritmo, due battute di passaggio. Il ritmo rimarrà sempre lo stesso, ma questa volta andremo a farlo sul piatto ride come vi ho fatto vedere prima, verso l'inizio del video, più o meno. E come passaggio, dato che possiamo fare due battute e quindi abbiamo otto colpi disponibili, andiamo a fare due colpi sull'olante, due sul tom 1, due sul tom 2 e due sul timpano. Quindi, uno, due, tre, quattro. e così abbiamo visto come funzionano ritmi e passaggi insieme. Spero che vi sia piaciuta questa prima lezione di batteria. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ovviamente vi ricordo che avete tutti i link che vi servono. Vi lascio i link di tutte le batterie di tutte queste Tornado. Questa è una batteria con cassa da 22, rullante da 14, tom da 12, tom da 13, timpano da 16 e due piatti, un Charleston e un Crash Ride che di solito Crash e Ride sono due piatti diversi. In questo caso, giusto perché è una batteria per cominciare, ci sono due piatti. Il Crash e Ride sono lo stesso piatto. Esistono anche queste tipologie di piatto. Crash Ride si chiamano proprio. Di questa batteria ne esistono tantissimi set quindi andate qui sotto come vi ho detto e guardate tutte le possibilità di set che ci sono. Esistono vari colori, esistono un bel po' di possibilità quindi date un'occhiata più che altro perché se state cercando una batteria come prima batteria oppure una batteria muletto diciamo quindi una batteria da avere in più questa potrebbe essere assolutamente un'ottima scelta. Io con questo voglio ringraziare senza cadere questa volta magari ancora strumentimusicali.net per avermi dato la possibilità di fare un video che volevo fare da tempo con una batteria che avesse senso ma con una batteria che avesse senso sì perché non volevo fare il video con la batteria da 4.000 euro in cui facevo vedere la prima lezione di batteria e grazie mille strumentimusicali.net io con questo posso finire il video posso dirvi di iscrivervi al canale perché vedo che tanti di voi guardano i video ma non si iscrivono e questo non è tanto bene quindi iscrivetevi e basta ragazzi trovate tutto in descrizione ovviamente se vi possono interessare i miei corsi della mia scuola online trovate tutto qui sotto in descrizione e basta ci vediamo al prossimo video ragazzi ciao ciao ciao